in questo video vi mostrerò come risolve il problema delle lampadine bruciate classico problema che si ha quando si elabora una vespa innanzitutto vi dovrete procurare un regolatore di tensione come questo l'importante che sia 6 volt lo potete trovare in qualsiasi negozio di fornitura di accessori per moto 6 volt una cosa semplicissima questo regolatore ha due fili uno nero e uno giallo questo nero lo metteremo a massa e trovate un posto più adatto a voi io di solito mi metto qui dove c'è il carterino l'importante è prendere il filo sotto a massa e questo lo potete attaccare in questa posizione stringete bene in modo che faccia massa poi questo filo giallo dovrà andare a attaccarsi praticamente voi vi troverete con lo scatolino che avete sotto la vespa dove ci sono i fili e andrete a collegarlo sotto il filo verde che va ai fanali quindi vi procurate un pezzo di filo verde mettete un occhiello come questo stringete bene un occhiello di questo tipo lo fissate qui sotto e questo filo lo porterete a questo giallo del regolatore così ripeto filo verde col filo verde dell'impianto della vespa uscite dalla scatolina e non date legare andate a attaccare a questo filo giallo del regolatore la cosa è semplicissima funzione l'unico sistema per risolvere il problema delle lampadine bruciate quindi potete montare le lampadine a 6 volt originali e vedrete che non bruceranno più